bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video o mi sparano io sono xuder e ragazzi oggi non potevo registrare non potevo non registrare questo video perché ho appena trovato ragazzi per la prima volta su fortnite lo oh mio dio mi sparano lo scaracca leggendario volevo farvelo vedere siccome è un'arma leggendaria oh mio dio è un'arma leggendaria non è proprio così facile trovarla volevo condividere lo proviamo subito lo proviamo subito oh mio dio di dio oh mio oh mio dio che male che fa guardatelo raga guardate che bello dai che devo scappare dai che devo scappare guardate che meraviglia fucile d'assalto leggendaria oh mio dio andiamo a prenderlo andiamo per non so che molti di voi l'avranno già presi dire a noi maxi del cosa fai ti emozioni per una roba leggendaria sì 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 allora abbiamo della roba interessante di opere ustrega il medikit il medikit ci serve assolutamente siamo fuori ma dobbiamo curarci dobbiamo curarci oh mio dio ragazzi scaracca leggendario in fortnite tra l'altro oggi per chi ha aperto il gioco avrà sicuramente notato quel pop up che ci ha regalato epic legend che praticamente ci annuncia io l'ho fatto ieri ci annuncia l'arrivo delle nuove armi silenziate però questo non era segnato nell'aggiornamento che ho visto ieri e quindi ragazzi nuova introduzione di mitragliette silenziate a corta media distanza ci viene detto anche appunto poi è della modifica non della modifica dell'integrazione che viene fatta cioè praticamente se noi usiamo una nuova trappola da lancio possiamo usare due volte il deltaplano durante la partita oh peccato ho sentito i passi me lo sono perso peccato beh ragazzi questa era solamente una degustazione dello scaracca leggendario spero abbiate apprezzato io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto ciao 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 No one will go